Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starred Books, nuovo appuntamento dedicato alle serie tv. Oggi è il 2 di gennaio che sto registrando, questo video non so voi quando lo starete vedendo, penso dopo l'epifania, ma proprio ieri sera, proprio il primo di gennaio, ho iniziato diciamo l'anno concludendo finalmente la serie The Mandalorian. The Mandalorian, per chi non lo sapesse, è una serie creata da Jon Favreau, che per chi, quattro pochi che non lo sanno, è stato il regista dei due Iron Man, nonché anche produttore, poi del terzo, perché il terzo mi sembra che non l'ha diretto lui e si è visto. E poi anche l'interprete, scusate oggi non riesco a parlare, del personaggio di Happy, che è la guardia del corpo barra migliore amico, possiamo dire, di Tony Stark. E devo dire che Jon Favreau, con questa serie, che è tratta appunto dall'universo di Star Wars, ha fatto, secondo me, un lavoro della Madonna. Adesso ne parliamo. Di cosa parla The Mandalorian? The Mandalorian, come dissi nella recensione dell'ascesa di Skatewalker, che ha una ferita che sanguina ancora, lo trovate nelle schede e poi nelle schermate finali, The Mandalorian si pone nel mezzo tra il ritorno dello Jedi e l'irrisveglio della Forza. Stavo già anche sbagliando il titolo di quell'altro coso, diciamo così. The Mandalorian narra le vicende di Mando barra Din Djaran. Din Djaran, io lo chiamo Mando perché è più facile da pronunciare, poi per tutta la serie viene chiamato così, è stato adottato dalla, chiamiamola setta, perché comunque i Mandaloriani non sono una razza, ma sono un credo, lo dice proprio Mando nell'ultimo episodio, dopo che il suo pianeta è stato praticamente sterminato da un'azione chiamata Purga, che deve essere avvenuta appunto durante l'impero, immagino, immagino, perché non è che ci sono molte informazioni, penso perché comunque ci sarà una seconda stagione, magari ne sapremo anche di più. I genitori lo nascosero in una botola, diciamo così appunto un nascondiglio, e fu salvato appunto dai Mandaloriani e adottato. E lui appunto, una volta entrato nei Mandaloriani, ha abbracciato il loro credo e il loro stile di vita e di questa sette, diciamo, faceva parte sia Jango Fett che Boba Fett, che poi hanno fatto una fine di merda, si può dire, perché Jango Fett è morto nell'attacco dei cloni decapitato da Maze Window, mentre Boba Fett è morto nel ritorno dello Jedi durante l'assalto a Jabba the Hutt per salvare Han Solo, ed è stato appunto divorato dal Sarlacc, quindi hanno fatto un po' tutte e due delle fine un po' così, però loro non erano, diciamo, personaggi positivi nella serie The Mandalorian, fatta questo mito, perché alla fine i Mandaloriani, di cui facevano parte appunto anche Jango e Boba Fett, sono alla fine dei cacciatori di taglie, sì, ma che abbraccia non credo, questa è la via. Mando appunto è un cacciatore di taglie che non si ferma mai, è uno dei migliori della gilda dei cacciatori di taglie e devo dire che è un personaggio davvero ben strutturato e non lo si vede mai in volto, soltanto una volta nell'ultimo episodio e per pochi, neanche un minuto, ma sotto quel casco c'è Pedro Pascal, Pedro Pascal che è stato Oberyn Martell nella quarta stagione del Trono di Spade, o era la terza, no, la quarta, quarta stagione, quarta stagione che ha fatto anche lui, che ha fatto lì una fine del Menga, porca miseria, io ce l'ho ancora qua, cioè, avevi vinto, porca di quella Eva, vipera rossa della mefava, e ti sei fatto poi fregare in zona Cesarini, a me ancora mi sta tanto qua quella cosa lì. Ma Ando è un personaggio che non è bunista, ma non è neanche negativo, nel senso che ha un suo codice d'onore, quando gli viene offerto un lavoro da un imperiale, già appunto nei primi episodi, perché comunque è una serie, non è lunga, sono otto episodi della durata di 35-50 minuti massimo, quindi anche godibile, perché comunque non sono pesanti, nulla da togliere contro gli episodi troppo lunghi, però in una serie come questa, già 50 e passa minuti sono già tanti, perché comunque poi ci si annoia, almeno a mio parere, poi non lo so, eh. Beh, quando già gli viene affidato un lavoro da parte di un ex imperiale, lui già storcia il naso, perché lui per impero appunto non aveva molta simpatia, anche perché comunque è l'impero che, a quanto pare, è la causa dello sterminio della sua gente, quindi ci può anche stare, e quando, dopo una battaglia, poi le battaglie veramente, sono fatte da Dio, sono fatte veramente, veramente bene, io respiravo il vecchio Star Wars, lo Star Wars di George Lucas, non quello scempio che è uscito con questa nuova trilogia di Abrams, che ecco, ma non voglio neanche, non voglio più parlare della Cesare Skywalker, ma io, vedendo già solo il primo episodio di The Mandalorian, ho respirato Star Wars, l'atmosfera vera di Star Wars che tanto mi era mancata, che poi c'è anche un cast di un certo livello, c'è Pedro Pascal è il protagonista assoluto, ma in ogni episodio ci sono anche degli altri attori di un certo livello, c'è Carl Withers, che è stato il mitico Apollo Creed, c'è stato Nick Nolte, che ha dato la voce a uno dei personaggi, Gina Carrano, che non brillerà come recitazione, ma è una lottatrice con i controcavoli, perché non la conoscesse, ha fatto l'amante di Owen Shaw nel quinto Fast and Furious, e poi ha fatto anche una parte così, anche delle parti così anche in film, comunque sempre in azione, perché lei appunto è una lottatrice di arti marzallimiste professionista, c'è insomma dei nomi anche di un certo livello, comunque sia dopo questa battaglia fatta veramente bene, in cui Mando recupera la merce che gli era stato ordinato di recuperare, si trova davanti questo bambino della razza dello Yoda, che è la tenerezza fatta a personaggi, io ne voglio uno, vi prego, se fanno il fanchino dello Baby Yoda, qualcuno me lo regale, oppure me lo dica che me lo prendo subito, perché è la tenerezza fatta, ma è carino, Pucci, un bellino, ma è di una dolcezza incredibile, appena l'unico mi si è sciolto il cuore, come dicono a Roma, no veramente, Mando appunto prevale il suo istinto, quello diciamo positivo, impedisce all'altro droide, l'altro cacciatore che era stato mandato per sicurezza, che era un droide, e Mando odia i droidi, odia i droidi proprio perché era un droide che stava per ucciderlo prima che venisse salvato dai mandaloriani, e sono stati appunto dei droidi imperiali a massacrare la sua gente, quindi un po' di antipatia per i droidi, porca troia ci sta, diciamola tutta, e Mando appunto salva il bambino, alla fine decide di salvare il bambino e di mettersi contro tutta la gilda, proprio perché sente che è la cosa giusta da fare, sente che proteggere questo bambino è più importante di eseguire il lavoro della gilda, non subito però, perché prima lo consegna, e si accaparra la ricompensa, che sono delle placche di metallo, diciamo imperiali, con cui lui si fa una nuova armatura, poi però ci ripensa, perché capisce che il bambino farà una brutta fine, insomma, e decide di riservare e di proteggerlo, quindi vedete, ha proprio un equilibrio di luce e ombra, perché se prima appunto consegna il bambino e accetta i soldi, poi però lo va a salvare, perché il suo istinto gli dice che è la cosa giusta da fare, quindi c'è proprio un delicato equilibrio tra luce e ombra in Mando, poi appunto scopriamo in un certo punto, in cui Mando sta combattendo con questa creatura, io i nomi non me li ricordo ragazzi, anche perché nel universo di Star Wars i nomi sono tutti strani, non si capisce mai niente, ricordarsi di veramente un macello, e poi non me li sono segnati, vi darò la verità, lo sapete che io mi metto qui a parlare davanti alla telecamera, come se stessimo prendendo un caffè, comunque sia, sta combattendo con questa creatura, perché deve recuperare un uovo, da dare ai Jabas, per riprendere la roba che loro gli hanno rubato, ad un certo punto della storia, e vediamo appunto che mentre Mando sta per essere sconfitto da questa creatura abnorme, il bambino utilizza la forza per fermare il mostro e permettere a Mando di ucciderlo, quindi capiamo che questo baby Yoda, chiamiamolo così, non si sa bene come si chiama, perché comunque un nome non ce l'ha, e poi la razza dell'aliena di Yoda non è mai stata effettivamente specificata, però se tu lo guardi è un piccolo Yoda, cioè tu lo guardi è Yoda, è una miniatura di Yoda, quindi lo si chiama diciamo amichevolmente baby Yoda, è in grado di usare la forza come i Jedi, io appunto anche nella scena di Skywalker dissi questa cosa, che appunto, in la scena di Skywalker, Ren cura i feriti come se fosse Gesù Cristo, un mio iscritto che mi ha commentato, Giovanni mi ricordo solo il tuo nome, grazie per avermi commentato quel video, mi ha fatto notare questa grandissima stronzata, che se effettivamente i Jedi fossero in grado di curare tutto, perché Anakin Skywalker non avrebbe potuto curare Padme durante il parto? Cioè fare tutto quel casino per diventare Darth Vader, quando a quanto pare questi risuscitano i morti come anche Gesù Cristo? Giovanni ha avuto ragione, anche qui in The Mandalorian succede una cosa diciamo analoga, perché a un certo punto della storia capiscono, Mando continua a scappare, fa lavori dietro, vive diciamo avventure da un pianeta all'altro, arriva anche su Tatooine a un certo punto, e fino a verso la fine della storia appunto, nel penultimo episodio, Carl Withers, di cui non ricordo il nome, che comunque è il capo della gilda dei Cacciatori d'Italia, gli dice che l'imperiale che gli ha dato il lavoro, ha praticamente ridotto in schiavitù il loro pianeta, il loro avamposto insomma, e ha bisogno del suo aiuto per farlo fuori, perché anche Mando si rende conto che non può continuare a scappare con questo piccolino, perché lo inseguiranno sempre, e appunto questo Carl Withers viene ferito al braccio, e il piccolo Yoda lo cura col potere della forza, ma lì ci può stare, perché comunque Yoda, Yoda è stato uno dei più grandi Jedi mai esistiti, quindi è stato il maestro di tutti i Jedi che sono mai esistiti sulla faccia della galassia, quindi io voglio giustificare questa cosa, col fatto che comunque questo qui è un alieno, ed è un alieno appartenente alla razza dello Yoda, quindi dovrebbe avere una padronanza della forza bestiale, però è un po' inverosimile, e lo trovate un po' inverosimile anch'io questa roba, per non far morire probabilmente, o forse perché ci sarà un'altra spiegazione, io voglio sperare che ci sia una spiegazione logica, per quanto riguarda il fatto che il baby Yoda sa curare le ferite, che neanche Gesù Cristo, ma che Rey lo sappia fare, che è una leva che non ha neanche completato l'addestramento, l'ho trovato veramente inverosimile, come appunto perché allora anche Anakin Skywalker poteva resuscitare Padme, dai, non diciamoci stronzate, vabbè, tornando a The Mandalorian, perché comunque ci sono molti collegamenti, forse Abrams l'ha fatta apposta, perché ha visto che The Mandalorian era dieci volte superiore a quella merda che ha fatto lui, perché chiaramente The Mandalorian è una serie che è dieci passi avanti all'ascesa di Skywalker, perché è fatta bene, si respira Star Wars da tutti i pori, il cast è ottimo, Pedro Pascal nel ruolo di Mando, anche se non si vede mai, ha fatto un lavoro della Madonna, perché Pedro Pascal comunque è un bravo attore, dopo Game of Thrones ha fatto anche Narcos, adesso se non sbaglio sarà nell'ultimo Wonder Woman, anche, insomma, è un attore che sa il fatto suo, è bravo e si vede, e poi la storia è bella, è commovente, perché tu vedi questo cacciatore di taglie, che si mette contro la sua stessa gilda, si ritrova cacciatore di taglie a destra, manca solo per proteggere questo bambino, perché rivede in lui la stessa cosa che è successa a lui quando era piccolo, Baby Yoda è stato, voleva essere ucciso da qualcuno, come stava succedendo a lui, e qualcuno lo ha trovato e gli ha dato la possibilità, lui voleva fare la stessa cosa, dare a Baby Yoda la stessa possibilità, che è stata data a lui quando l'hanno trovato i Mandaloriani, io ci ho visto questo bellissimo significato di fondo, infatti poi all'ultimo, nell'ultimo episodio, l'armaiola che è quella che fa le armature ai Mandaloriani, che nel frattempo sono stati sterminati, o perlomeno sono fuggiti, non si capisce bene che cosa è successo, i pochi Mandaloriani che erano rimasti, che vivevano nell'ombra, gli dice che appunto è un trovatello, e quindi lui gli farà da padre, finché non sarà in grado di camminare sulle sue gambe, o finché non l'avrà riportato al suo pianeta d'origine, e affidato ai suoi simili, quindi adesso appunto Mando dovrà riportare Yoda, scoprire innanzitutto dove viene, perché effettivamente lo Yoda non è mai stato detto, quando la ragazza arriva, cioè Yoda noi l'abbiamo già visto, noi l'abbiamo visto su, Degobà, esatto, mi sono ricordata, ma lì era in esilio, si era auto esiliato su Degobà, dopo che era stato sconfitto da Darth Sidious, nella vendetta dei Sith, però lui non viene da lì, almeno non credo, non è mai stato detto, ho solo detto che devo andare in esilio, e si è esiliato su Degobà, dove non c'era assolutamente nulla, solo paludi e schifo, però non è detto che venga da lì, perché non c'era nessuno su Degobà, era un pianeta completamente quasi deserto, c'erano solo creature, e roba bruttissima, quindi non credo che Yoda venga da Degobà, non penso proprio, quindi forse questa serie, ti aiuterà anche a capire, effettivamente, da dove arriva Yoda, scopriremo un po' di più sulla sua razza, e forse ci verrà data una spiegazione logica, perché sto bambino riesce a curare la gente, col potere della forza, spero, vivamente, che John Favreau si risolva questo dubbio, perché se i Jedi veramente sono invitati di Gesù Cristo, allora io veramente me ne vado, cioè mi alzi e me ne vado, c'è appunto anche questo nemico, che adesso veramente ho rimosso il nome, perché veramente i nomi sono difficilissimi da ricordare, su Star Wars, ma è interpretato da Giancarlo Esposito, che anche lui è un attore della Madonna, che appunto sta cercando, è lui appunto alla fine, che ha commissionato veramente il lavoro di cercare il Baby Yoda, e lo vuole a tutti i costi, e l'ultimo episodio appunto si conclude anche con un cliffhanger, in cui sembra che Mando sia riuscito ad abbattere la sua navicella, mentre li stava attaccando, e lui si è fatto strada con questa Dark Saber, cioè questa spada laser completamente nera, che non si è mai vista, ma che da quello che ho capito, dovrebbe essere un'arma originaria dei Mandaloriani, quindi questo, è un cliffhanger bello importante, quindi io spero che la Disney, ci butti dentro presto la seconda stagione, perché adesso sono curiosa, sono piena anche di domande, veramente, questa serie è stata una scoperta incredibile, perché è stata fatta bene, è stata diretta bene, uno degli episodi è stato anche diretto da Bryce Dallas Howard, che per chi non lo sapesse è la figlia di Ron Howard, e devo dire che è stato un episodio ben diretto e ben sceneggiato, è il terzo se non sbaglio, ma tutti gli episodi, poi c'è anche, mi sono dimenticata, c'è anche Taika Waititi, che è il regista di Thor Ragnarok, e che ha dato anche la voce a Robo, quello cacciatore, di cui Mandalore, insomma, non si fida troppo, ma che alla fine compie l'estremo sacrificio, per salvare tutti quanti, ovvero si fa auto esplodere, ed è anche uno dei produttori, se non sbaglio, ha scritto anche degli episodi, quindi, insomma, c'era dietro una produzione, sì di un certo livello, ma anche nella Cesaris che è uguale, che quindi io mi domando, com'è possibile, che una serie tv di otto episodi, ben diretta e ben sceneggiata, con comunque un cast, e una direzione di un certo livello, sia riuscito a surclassare una cosa, come che avrebbe dovuto concludere tutta la saga, io questo non lo capisco, ma va bene, perché The Mandalorian veramente già mi manca, perché dopo quello scempio della Cesaris che Walker, è bello vedere come una serie tv, basata poi neanche, perché George Lucas, qui non ci ha messo mano, viene tutto dalla mente di Jon Favreau, e anche di un altro, no, l'ha creata Jon Favreau, quindi questa serie nasce dalla mente di quest'uomo meraviglioso, che io ringrazio, grazie Jon Favreau per aver creato The Mandalorian, perché ci ha ridato lo Star Wars, che tanto ci mancava, io gli do un 9 a questa serie, perché davvero mi ha intrattenuto, perché poi ci sono anche, c'è proprio quell'ironia tipica alla Star Wars vecchio stampo, i combattimenti sono belli, è ben diretta, è ben sceneggiata, il cast è superbo, la storia è bella, è coinvolgente, è anche commovente per certi versi, è solo il Baby Yoda con quelli sui vaccini, cioè c'è una bellissima scena, che voglio, è una delle tante bellissime, ma questa è quella che ho scelto, diciamo, di scrivervi riguardante il Baby Yoda, ci sono la Gina Carrano e Mando, che fanno a braccio di ferro, il piccolino crede che Mando sia in difficoltà, che lei gli stia facendo male, e allora alza la mano, e fa per soffocarla, infatti Mando lo prende, no 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 no, è mia amica, è mia amica, è stata una scena bellissima, infatti mi sono commoda, guarda quanto si è già affezionato, il piccolino, che vuole proteggere il suo padre adottivo, è una cosa tenerissima, e quindi mi si è sciolto con la quale, ci sono stantanto lui, questa serie vale tutto quanto, però le ambientazioni belle, le ambientazioni proprio alle star, la Star Wars, proprio bellissimamente, ben fatta, è proprio il vero, questa serie, la Mandalorian, è Star Wars, molto più di quanto lo sia stata, quest'ultima trilogia, fatta col culo, bene, questo video si conclude qui, io spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, appena potete recuperatela, perché è veramente, veramente bella, in descrizione trovate tutti i miei social, Facebook, Twitter, Instagram, vedi a trovarmi, soprattutto su Instagram, che è il social dove sono più attiva, seguitemi, mettetemi like, scrivetemi, fate quello che volete, andate anche solo a dare un'occhiata, che mi fate tanto, tanto, tanto contenta, iscrivetevi al canale, blog, se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella, per attivare le notifiche, e se questo video vi è piaciuto, mettetemi un bel like, e condividetelo, vi mando, un bacione enorme, e noi ci rivediamo, al prossimo video, e alla prossima recensione, ciao a tutti, e ricordatevi, The Mandalorian, è la via, per chi ama Star Wars,